Ciao a tutti ragazzi, questo è un nuovo canale, si chiama Vincenzo Marra. Io farò i video insieme al mio cugino. Ora vi faremo vedere i nostri rispettivi lec libri, faremo le persone libri, i pokemon, le video pokemon e le battaglie libri. Ora vi faremo il mio lec, il mio lec messo con le copertine verdi, mentre quello di mio cugino confissere i draghi un po' modificato con le copertine aranzioni. Ho due magiche a cagà, gole gogo, gandora, dente di leone, crossback x, rottame sincro, combattente delle lame, kaiser bide, drago fotonico, sfidante rogo spalla extra, stremroid, nevloria, sincro della strada, goblin bell, sfero di distruzione, verme busters, klebons, cavalliere del zubaba, cyber naga, cacciatore del caos e due toglie del lame. Ora vi farò vedere le carte, no, la mia magia. Due sifoni in spazio animistico, giro della dualità, terpescia potenze, sanforio fotonico, controllo avversario, minicolaggio, funghi del bostex, un differente capo sulla dimensionale, impiccioline. Ora le carte trappola. Ruggito minaccioso, pantapassi di ferraglia, stornato selvaggio, buco trappola, spullo profugante, rosa incubo, forza riflessa, visione dimensionale, due armature sacolesso, due cilindri magici, fustorale jacky, pescala difensiva, richiamo del posseduto. Ora vi farò vedere le carte del mio lexolec. Siapola ex urbellum, clenosauro, ristessore rottame, farfallo operativo fotonico, in inglese, e ad esempio il giro della tromba, meno o meno il giro della... scusate, ad esempio il giro dei tamburi e meno o meno il giro della tromba. Cavalieri Gemma Perla, Episino Vylon, campione eroico Skalbush in inglese, campione eroico Kusanagi, numero 10 Lumino Cavaliere, numero 17 Dragoria Vietano e numero 39 Utopia. Ora il mio lexolec mi mostrerà il suo lexolec. Ecco il mio lexolec con scritto dei draghi. Iniziamo dagli carte mostro. Una pietra bianca della leggenda, pomodoro mistico, profeta della creazione, dragonute ascia, sfera di distruzione, cacciatore cecchino, viverno e eclisse, jayne palatino fedele della luce, kaiba man, monaco evocatore, lupo da guerra nero pece, laila stregona fedele della luce, rigo cacciatore fedele della luce, signore DD. Ora iniziamo con i mostri di livello più alto. Drago luce pulsar, drago del giudizio, drago del vizio, drago di alta qualità, drago armato scuro, drago bianco occhi blu, drago metallico scuro occhi rossi, drago fotonico occhi galattici, drago fiamma nera, dragonite, drago fedele della luce, cacciatore del caos, stregone del caos e drago interplanetario corpo nascoloso. Poi ci sono le carte magia, zona del caos, sepoltura sciocca, strappo possesso, libro della luna, carica della brigata della luce, fulmine voltex, mostro risuscitato, ddr, rincarnazione da una differente dimensione, flauto evoca draghi, soffio esplosivo di distruzione, un altro strappo possesso, un commerciante di carte. Poi le carte trappola, buco trappola, rinascita del drago, richiamo del posseduto, catena demoniaca, armatura sacurezzo, richiamo del posseduto, cilindro magico, un altro armatura sacurezzo, scudo prosciugante, un altro cilindro magico, ruota incubo, crepaccio ghiacciato, tornate di polvere, un altro scudo prosciugante e fuga dalla dimensione oscura. Ok ragazzi, abbiamo finito, alla prossima. Ciao!